È una ricchezza per il nostro territorio, una ricchezza culturale, economica ed enoturistica. È il Consorzio di Tutela Vini Colline Terramane che compie 20 anni di attività e festeggia questo traguardo con una tre giorni di degustazioni dedicata al pubblico e agli operatori. Dal 4 al 6 marzo, nella Sala Ipogea, nei saloni della Pinacoteca Civica di Teramo, si terrà la terza edizione di la nostra anteprima The Cool on the Hills. 20 anni di Consorzio, è un evento per festeggiare? È certo, non potevamo non celebrarlo essendo il premio per tutti i viticoltori della provincia di Teramo che hanno contribuito alla nascita di questa che è stata la prima di OCG di Abruzzo ed è sicuramente una delle punte di eccellenza della produzione vinicola regionale. E quindi è una festa per noi e per tutto l'Abruzzo. Che importanza ha economicamente questo Consorzio per il nostro territorio? Economicamente è ancora piccola. La produzione di DOCG complessivamente non supera le 600.000 bottiglie in tutta la provincia. È una nicchia, una super nicchia di produzione. Però è una produzione di altissima qualità e dal punto di vista, quindi, diciamo, culturale è molto importante. E poi Colline Teramane da nome di vino è diventato nome di un'area geografica, cosa che non era scontato. È un'idea che è nata nella testa di noi viticoltori e oggi è una realtà concreta, geografica, che ha dei confini e ha un'identità precisa. L'evento The Cool on the Hills è stato realizzato con il contributo del MASAF, della Camera di Commercio e del Comune di Teramo. I vini del Consorzio di tutela Colline Teramane stanno riscuotendo successo nella grande ristorazione italiana e sul mercato internazionale. Un consenso che fa volare turisticamente l'intera provincia di Teramo. Il Consorzio Colline Teramane è veramente una forza straordinaria per questo territorio. Il binomio territorio-vino deve comunque crescere molto. Noi stessi, cioè la gente di questa provincia, deve capire quanto sia importante identificare un territorio con il vino. L'Abruzzo è terra, la terra più importante, la terra dell'anno per il vino, secondo Wine Enthusias. Quindi è importante in qualche modo rimarcare che il Consorzio Colline Teramane è uno degli attori principali di questa regione. Quindi per la nostra città è molto importante continuare su questo percorso.